La campagna elettorale giarese non sembra ancora entrata nel vivo, tutti sembrano agire con assoluta circospezione. Le candidature a sindaco non si sono ancora delineate, ieri sono intanto proseguite le azioni di pressing all'ex sindaco Roberto Bonaccorsi per convincerlo a ricandidarsi, ma ad oggi l'ex primo cittadino non ha sciolto la riserva, lasciando tutti con il fiato sospeso. Questa mattina è unnesimo incontro tra i fedelissimi dell'ex sindaco nella centralissima Piazza Duomo, dove in contemporanea è stata ufficializzata la presenza del senatore Vincenzo Gebino, una candidatura che suona veramente come una forte provocazione, quella dell'avvocato Giuseppe Fiumanò, che spiega le ragioni della sua discesa in campo. Io ho deciso di scendere in campo, la mia candidatura vuole dare un'alternativa ai soliti noti. Ritengo che Giarre abbia bisogno di gente nuova, di gente che viene dalla società civile soprattutto, al di fuori dei soliti politici politicanti che sino ad oggi si sono succeduti sulla poltrona di sindaco. Ritengo che Giarre non può continuare ad andare in questo modo, ci vuole qualcosa che la risollevi. Ovviamente non ho la bacchetta magica e quindi è chiaro che prima di ogni altra cosa bisogna capire, che ancora nessuno ha capito, qual è la vera situazione, la reale situazione economico-finanziaria dell'ente. Diversamente da tanti candidati, da quasi tutti i candidati che in campagna elettorale fanno promesse iperboliche, qui si deve guardare al concreto, non si può parlare a Giarre solo di dissesto o evitare il dissesto. Qui si deve capire se è importante eliminare le buche per le strade, che i servizi in qualche modo funzionino meglio, che le tasse vengono abbassate, che poi è questo che interessa i cittadini. Non si può parlare solo di dissesto. Così come credo una cosa importante che deve essere in qualche modo sistemata è la burocrazia comunale, una burocrazia comunale che è stata decapitata, una burocrazia comunale completamente demotivata. A questo punto credo che, perché in qualche modo Giarre vada avanti, il primo passo da fare è sistemare la macchina burocratica, che allo stato attuale, mi pare, funzioni poco. Il senatore Vincenzo Gibino, dal canto suo, pur non entrando nel merito della neocandidatura di Fiumanò, annuncia interventi importanti per il territorio giarese nell'ambito della sua attività parlamentare. Certamente, l'osservatorio parlamentare sul mercato immobiliare, che abbiamo lanciato qualche mese fa con le iniziative sul leasing abitativo, ma quello che metteremo in campo sulla normativa del rent to buy o sulla permuta, mirano ad aumentare i posti di lavoro nel campo dell'edilizia ed è per questo che Giarre può diventare un centro importante e protagonista. Abbiamo stimato nel riprendere 300.000 posti di lavoro dei 750.000 persi. Noi sappiamo che quando si muove la manicola si muove tutto intorno. Poi martedì, mercoledì, potrà essere approvata la mia mozione sulla privatizzazione delle ferrovie, ovviamente una parte, e questo significherà recuperare risorse importanti nel comparto e la mozione vuole far spendere queste somme per la riqualificazione della linea ferrata da Roma in giù. Anche qui, quindi, la Sicilia protagonista è anche Giarre.